Perché dopo aver irradiato il fascio energetico, si verificò un terremoto di magnitudo 4 e 4,5 della scala Richter. Eravamo stupefatti dall'apparente conseguenzialità dei due eventi. Eravamo in una zona fortemente soggetta ai terremoti, situata nei pressi dell'asse di faglia del Pacifico Nord-Occidentale. Era bastato irradiare le onde Elf per scatenare un terremoto. Il dottor Egniu ci mostra come può aver generato il terremoto. Questo è il modello in scala della regione dell'Oregon in cui effettuammo la tomografia terrestre nel 1987. Questo strato rappresenta l'asse di faglia sotterraneo. Il sasso è l'energia potenziale sviluppata dal terreno in seguito a uno stress tettonico. Ora irradieremo delle onde Elf dimostrando che sono davvero in grado di innescare un terremoto. L'esperimento che stiamo per vedere è realmente particolare. Potrebbe addirittura dimostrarci che queste particolari onde a bassa frequenza sarebbero in grado di generare un terremoto a comando. Davvero inquietante. Attivando gli altoparlanti comincia l'emissione di onde Elf. Vengono rilevate impercettibili vibrazioni nella sabbia e pochi secondi dopo il sasso che rappresenta la linea di faglia cambia posizione. Come avete visto in pochi secondi la frequenza di risonanza generata dal trasmettitore ha innescato l'energia potenziale del sasso. Su scala reale la vibrazione verrebbe avvertita per centinaia di chilometri. Questi presupposti sono già presenti nel terreno, serve solo l'energia necessaria a renderli effettivi. Per i teorici della cospirazione l'ARP sarebbe responsabile dei terremoti avvenuti negli ultimi tre anni nei territori nemici, tra cui l'Iran, la Cina e l'Afghanistan. Ma il sorprendente potenziale dell'ARP non si limita a questo. Alcuni sostengono che sia collegato a uno strano fenomeno che si sta materializzando nell'atmosfera terrestre. Sempre più spesso, negli ultimi anni, strane formazioni nuvolose hanno fatto la loro comparsa nei cieli di tutto il mondo. Molti in Nord America...